Cristo è risorto, in tre lingue, greca, latina e antica slava. Cristo è risorto, in tre lingue, greca, latina e antica slava. Cristo è risorto, in tre lingue, greca, latina e antica slava. Cristo è risorto, in tre lingue, greca, latina e antica slava. Cristo è risorto, in tre lingue, greca, latina e antica slava. Cristo è risorto, in tre lingue. Cristo è risorto. Cristo è risorto, in tre lingue, greca, latina e antica slava.